Ciao Andrea. Ciao Marco. Hai visto Mirko Pontesilli sabato scorso ad Italia's Got Talent? Certo, mi ha fatto schiattare dalle risate. Hai visto come ha lasciato di merda Zerbi? Sì. Ci voleva proprio una persona che zittisse Zerbi finalmente. Mi ha fatto divertire molto. Secondo me dovrebbe vincere lui Italia's Got Talent. Sono d'accordo con te.